Fasi di risposta sessuale nell'uomo e nella donna e la loro relazione con le disfunzioni sessuali maschili e femminili, ossia quando e dove le disfunzioni sessuali maschili e femminili si presentano all'interno delle fasi di risposta sessuale. Le fasi di risposta sessuale sono quelle che occorrono dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista fisico, nel momento in cui ci approcciamo per avere appunto un rapporto. Queste sono l'eccitamento, quindi la fase iniziale in cui si innescono tutta una serie di fantasie e si susseguono degli stimoli, ad esempio dal punto di vista tattile, e iniziano a preparare il corpo ad avere il rapporto, ad esempio l'uomo all'erezione mentre la donna si lubrifica. Successivamente c'è il plateau, ossia una fase di ulteriore consolidamento della eccitazione che è preparatoria all'orgasmo, anche qui occorrono tutta una serie di cambiamenti dal punto di vista neurologico, vascolare e muscolare sia nell'uomo che nella donna, sino ad arrivare alla terza fase che è quella dell'orgasmo, e successivamente alla fase della risoluzione, ossia nella quale l'uomo entra nella fase refrattaria, quindi nell'impossibilità di avere un successivo rapporto, e così la donna che non vive una fase refrattaria tipica come quella dell'uomo, poiché può avere anche degli orgasmi multipli, ma nel momento in cui questi non arrivano, quindi procede verso la risoluzione. Queste sono le quattro fasi di risposta sessuale, eccitamento, plateau, orgasmo e risoluzione. I disturbi sessuali, le disfunzioni sessuali, come ho già detto in precedenti video, sono sette. Quattro sono maschili, due hanno a che fare con l'eaculazione precoce o ritardata, una con il desiderio ipoattivo, quindi una mancanza di desiderio, e uno con la disfunzione erettile o perdita di erezione. Tre sono femminili, legate quindi anche qui ad un desiderio ipoattivo, all'onorgasmia o alla sensazione, al provare dolore durante il rapporto sessuale. Le disfunzioni sono diverse, hanno caratteristiche diverse e si presentano in momenti diversi delle fasi di risposta sessuale. Ovviamente per quanto riguarda il calo del desiderio, comunemente chiamato, o il desiderio ipoattivo, sia nell'uomo che nella donna, sono a monte di tutto, ossia sono ancora prima dell'innesco, si presentano ancora prima dell'innesco delle fasi di risposta sessuale, poiché c'è un problema nell'eccitamento, quindi che può essere mentale con il rilascio della dopamina e l'inibizione della serotonina e o ovviamente tattile, quindi fisico. Mentre per quanto riguarda gli altri disturbi, sono presenti in momenti diversi, ad esempio per quanto riguarda la disfunzione erettile o la perdita di erezione, sicuramente coinvolgono la fase dell'eccitamento o quella del suo consolidamento, come ad esempio il plateau, mentre per quanto riguarda eiaculazione precoce e eiaculazione ritardata coinvolgono la fase dell'orgasmo. Diversamente per quanto riguarda la donna, la fase ad esempio del problema, la disfunzione dell'anorgasmia ha a che fare ovviamente con la fase orgasmica, mentre per quanto riguarda il vaginismo o meglio le sensazioni di dolore durante il rapporto hanno a che fare con tutta la fase di, anche qui, eccitamento e plateau, cioè la preparazione del corpo all'atto sessuale. Questo per dirti che cosa? Che i disturbi sessuali sono specifici, cambiano ovviamente tra uomo e donna, ma possono essere collocati in fasi altrettanto specifiche della risposta sessuale che mettiamo in atto. E questo serve per riuscire a comprendere e definire meglio qual è il problema, dove si presenta e conseguentemente approfondendolo, conoscendolo, imparare quindi a padroneggiarlo, imparare a porre l'attenzione dove occorre, senza fare tutta l'erbofascio, senza generalizzare un problema sessuale, ma andando in maniera mirata a lavorare su ciò che occorre, quindi intervenendo sulla fase di risposta sessuale che viene compromessa dal disturbo sessuale.